Sì, ovviamente, in inglese, o in francese? Ah, no, in inglese, ok. Quindi, buon giorno, incredibile. Incredibile, incredibile finale di Anthony. E anche Lammers, perché si è iniziato un po' più vicino, ma in fine si è tornato molto. Penso che sia possibile mettere i due piloti sul podio, ma già è bello. Una vittoria di te, perché eravamo fuori lì, con le condizioni fuori, e oggi con le condizioni secche? Sì, sì. All'inizio è iniziato, ma iniziato da zero, perché le condizioni ha cambiato molto. Abbiamo visto qualche cosa nel ultimo gioco, ma non eravamo sicuramente per la finale. E' stato difficile di seguire la condizioni con le condizioni che avevamo, fino a settembre con il sole, la condizioni era molto veloce, perché era 6-2. No, no, è molto veloce. Non, no, è molto felice, perché da l'altra parte sembra facile, ma, sinceramente, è stato molto difficile. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.